Ciao, vi presento per quest'anno che non è il nuovo, perché loro due sono detti praticamente da buttare via. Lo staff del nuovo, siamo una squadra fortissima, manca qualche soggetto che purtroppo è fuori per lavoro. Che dire, io ci ho messo la scatola, mi passo loro per mi spiegano cosa sarà la buona razione di quest'anno. Tre. Grazie. Allora, lo staff prenderà il nome di The Freak Show e vorrà proporre una nuova stagione invernale per l'anno 2013-2014 del Vintage Pop. Il nostro obiettivo è quello di riportare il pop alla luce che aveva negli anni 70, con il massimo impegno e la massima serietà, non dimenticando tutto lo scopo ludico che ha il locale, affrontando musica e show in generale. No, io vi ricordo un paio di cose che sono utili. Una che la serata si terrà il lunedì, appunto. è importante. Due che troverete tutte le informazioni su Facebook, nella pagina di The Freak Show, ci trovate su Facebook con tutti i dati e le informazioni. Vi ricordo che il pop è l'unico locale che ha una navetta propria, quindi non c'è nessun problema. Voi avete la possibilità di venire su a gratis con la navetta, così non c'è nessun problema. vi divertite e tornate a casa. Pre-serata è organizzata al bar blu a Oniglia e quindi il concetto è che si va a prendere una critica al bar blu, poi c'è una navetta che mi porta qua e si dice la serata. Non vogliamo mica aggiungere, per caso, che siamo anche a uno dei vicini locali della provincia di Piperia, tra parentesi locali veri e che comunque l'interesse sarà il terreno. Ok, poi io lo seguo. Va bene. Sono in castigo loro. Ciao, vi aspettiamo. Ci vediamo venerdì. Ciao!